Amici di Youtube e di Instagram, buon pomeriggio a tutti quanti, edizione giornaliera, buon pomeriggio e buon giovedì 11 gennaio a tutti quanti. Allora, in questi giorni si è giocata la Coppa Italia, quindi i quattro quarti di finale, stasera la Juve, i Gobbi, l'altro ieri il Bologna che è uscito con la Fiorentina, chiaramente il karma ha ripagato perché il Bologna è passato con noi con due tiri giocando per 120 minuti nella propria area, quindi poi le cose nel calcio tornano, la Fiorentina che magari non avrà meritato quanto il Bologna di passare, però poi è passato ai rigori, il Bologna è giocato meglio nei 90 minuti, poi nei supplementari si è un po' spenta la partita, chiaramente anche per la paura e per le stanchezze, poi ai rigori la Fiorentina d'Italiano è passata in semifinale. Poi ieri il derby di Roma, un derby sotto il punto di vista del gioco scandaloso, io oserei prendere una frase di Massimo Pericolo, zero calcio solo calci, perché ieri veramente è stata una roba, ieri veramente zero calcio solo calci, spintoni, mani al collo, Paredes che provoca Pedro, prende il rosso solo Pedro, robe allucinanti, rossi, risse come in tutti i derby della capitale, il derby degli ergastolani, io ho sempre chiamato così, derby che sul punto di vista dello spettacolo e del calcio, un derby quasi nullo, che da sempre è pochissimo. E ieri, ieri insomma è stato una, la Lazio chiaramente molto meglio della Roma, ha vinto meritatamente, la Roma insomma veramente, primo tiro in porta all'ottantasettesimo, cioè la Roma come gioco ragazzi, non ce l'ho io voglio bene a Mourinho, ma come gioco la Roma è qualcosa di snervante, cioè ti snerva proprio. Con davanti Di Balaga, vabbè, ha fatto solo il primo tempo perché poi si è infortunato, Lukaku, pardon, l'infame, che non ha toccato mezza palla come sempre nelle partite importanti, sparisce, Fantasma praticamente, Fantasma ha pitturato di nero come un saccato della monnezza, con la maglia della Roma addosso. E quindi, insomma, poi anche lì Mourinho che va in conferenza a dire, eh, abbiamo perso per un rigore del calcio moderno, cioè fa un po' ridere, visto che comunque con l'Atalanta ti è andato un rigore di Ruggeri su Carsdor, perché quello è un rigore che ti danno solo, solo negli ultimi tre anni di regolamento nuovo, perché se vai anche solo otto anni fa è un rigore che non ti avrebbero mai dato col VAR, senza VAR, quindi c'è, anche lì non si può, cioè sono dichiarazioni che sono un po' senza senso, secondo me Mourinho è quasi al capolini, a me si spiace, però... Poi certo la rosa della Roma non è fortissima, perché io quando sento che la Roma ha la rosa dei campioni mi viene da ridere, perché non è vero, però... La Roma dei campioni ne ha uno che è di bala, appunto, che è l'unico fuoriclasse che ha, l'unico che può decidere le partite, è l'unico, l'unico fuoriclasse che ha, però se su 30 partite è rotto 15, come fa partire la differenza se gioca anche magari 20 minuti e poi si spacca in partita, quindi... Quello è... E ieri sera invece, inchia, ieri sera, ieri sera, la C Milagno, oserei chiamarla, la C Milagno, no? I ridicoli pagliacci, ossessionati, complottisti di Milano, che sono usciti meritatamente, hanno preso le palle in faccia dall'Atalanta a 90 minuti, perché è la verità, perché l'Atalanta vi ha preso a pallonate, adesso ammetterlo o non ammetterlo, lo so che è dura, perché chiaramente è dura sempre ammetterla in realtà, con voi che siete obbligati da sempre, come i vostri amichetti gobbi, a, come dire, a raccontare narrazioni finte, ma la realtà è che l'Atalanta vi è vera messa nel culo, dominando 90 minuti, meritando chiaramente di passare, con un rigore nel primo tempo scandaloso non dato all'Atalanta, su una spinta di Reinders, netta su Deron, che va a sbattere contro Gabbia, che secondo me lì lo placca anche un po', io l'unico, l'unica osservazione è quella che l'ho fatta io, perché comunque è vero che si interessa solo della palla a Gabbia, però se vedete bene l'ultimo, gli ultimi centimetri tenta un po' di tagliare, non so, secondo me quello è pure fallo di Gabbia, quindi due falli in un'azione, rigore netto, ma netto che grida vendetta, e se vai a vederla al VAR c'è anche il rosso per Reinders, perché quella è una spinta, chiaramente a chiaro occasione da rete, nell'area piccola, come cazzo fai a non dare un rigore del genere? come fai a non dare poi il rosso a Reinders? Quindi Di Bello, che è un arbitro che, voglio dire, la stagione parla chiaro, il mio dossier è lì da vedere, Di Bello li ha sempre aiutati quest'anno, sempre, sempre, sempre. Però loro con un rigore del genere non dato contro, e soprattutto con una gestione dei cartellini e dei falli, che è indecorosa è stata quella di Di Bello ieri, perché l'arbitraggio è andato solo in un'unica direzione ieri, solo in un'unica direzione. Cioè, nel primo tempo, all'Atalanta non gli ha fischiato mezzo fallo. Mezzo fallo a favore dell'Atalanta, primo tempo zero. Cioè, Loftus Cic faceva il cazzo che voleva, Musa, quello lì si è messo a dire a gomita, cioè, la roba è veramente... So, ditemi voi Jimenez, quelli lì, quello lì, l'ex Real Madrid, cioè capite com'è la roba, no? Invece però loro, mi direte, ma cos'è? Perdono e non piangono? Eh no, è certo che piangono, perché sennò non sono loro, sennò non sono... Poi loro hanno il coraggio di chiamarci interista Zabetta, interista Piangina. Loro, ripeto, loro. Che piangono da una vita. Loro, praticamente, piangono perché dicevano che però il rigore, quello lì di su Miranciuk non c'era. Per me quello è netto, invece, perché Miranciuk innanzitutto gli viene... Cioè, gli viene sbarrata la strada da Jimenez, quindi lì non vuoi, anche se tocca la palla, non c'entra un cazzo. Se vuoi il rigore è sempre perché tu gli stai sbarrando la strada e le ginocchia si incrociano, lo atterra. Poi, che Miranciuk lo cerchi, va bene, ma anche Ronaldo, quando ha fatto i primi anni alla Juve, si sarà preso una roba come 20 rigori, tutti cercati, tutti d'astuzia. Eppure, cercare i rigori non è vietato. È vietato però sbarrare la strada, quello sì che è rigore. Quindi è rigore netto, clamoroso per l'Atalanta, che è stata l'unica squadra che si può permettere di protestare all'arbitraggio. Perché è un rigore scandaloso così dato, dove Milano doveva stare sotto di un uomo e sotto di un gol, prima del gol di Leao del vantaggio. Ditemi voi, se questi si possono pure permettere di parlare dell'arbitraggio addirittura alla fine partita, su quella mano di Olm, che poi parliamone. Secondo me, a parte che poi il braccio era attaccato, ma poi seconda cosa, come cazzo fa a essere rigore quello? Cioè lì si gira con il braccio, movimento congruo allo spostamento del corpo, non è mai rigore, non è mai rigore quello lì. E come è possibile che nessuno ha chiamato il VAR? E valla a vedere il VAR, ti dico io, 100-100, che se Di Bello andava a vedere il VAR, non l'avrebbe fischiato lo stesso, perché è movimento congruo di Olm, non è mai rigore. Posso capire che continuate a rompere il cazzo con i complotti, che addirittura alcuni hanno parlato ancora di Marotta lì di ieri sera, perché giustamente, non lo sapevate, se l'Atalanta passa in semifinale, il Milan esce dalla Coppa Italia, Marotta sul conto, ieri erano 3 milioni di euro, non lo sapevate. Cioè, ma che cazzo c'entra Marotta ieri sera? Ma basta, ma voi siete veramente ossessionati, quasi ai livelli di stalker siete. Cioè, ragazzi, è allucinante. Questi pure ieri parlano di Marotta lì. Perché giustamente a Marotta non dorme la notte per vedere il Milan fuori dalla Coppa Italia. Ma andate a cagare, andate, ma andate a cagare. Che non sapete più che cazzo inventarvi. Che siete quelli più aiutati, siete quelli più aiutati dagli arbitri, voi. E ci sono i numeri, gli episodi che sono lì da vedere, che ho fatto i dossier, 50 minuti di dossier, uno scandalo puro. Uno scandalo puro. I più aiutati del campionato. Voi e i vostri amichetti Gobbi. Che ormai, l'unica cosa che vi rimane, l'unica gioia della stagione che avete buttato, una stagione finita ormai già a gennaio, anche se sento quelli che vogliono vincere l'Europa League. Tanto sicuramente i ragazzi vinceranno l'Europa League, sicuramente. Cioè, sti cazzi se il Liverpool gioca, vince 5-0, 6-0 con le riserve, con i giovani, tanto sti cazzi, quello fa niente. Ma tanto loro vinceranno sicuramente e le mie vincere l'Europa League, sicuramente. Ma proprio è scritto. È scritto. Come Scaroni che ha detto che avrebbero puntato tanto sul vincere la Coppa Italia. Infatti, infatti. Quindi, cioè, ma ci rendiamo conto questi come sono messi. Cioè, l'unica cosa che gli rimarrà, adesso, da adesso fino a fine stagione, l'unica cosa che vi rimane è tifare i Gobbi. Tifare i Gobbi. L'unica cosa che vi rimane da adesso fino a fine anno è tifare i vostri amichetti Gobbi di merda che vi hanno derubato una vita e voi li continuate a tifare. Ma contenti voi, contenti tutti. Tifate per i Gobbi, che è l'unica cosa che sapete fare. Almeno quando forse riuscite a gufare, riuscite a gufarle anche bene. L'Inter. E tifare invece i Gobbi. Tifate i Gobbi. Adesso l'unica cosa che vi rimane è tifare i Gobbi. L'unica cosa che vi rimane nella vostra stagione finita al 10 di gennaio. Poi, 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 poi. Quindi quello che alla fine non è mai rigore. Poi, maignan che va a protestare a Di Bello così sotto gli occhi. Niente, Barella invece col Genoa mezza protesta ammonito. Ma cioè, ma di quelle cose. E poi parlano, si permettono di parlare degli arbitri, si permettono. Cioè, poi, poi Di Bello è un arbitro scarsissimo, questo si sa. Ma poi vorrei io evidenziare come le proteste dei giocatori del Milan siano destabilizzanti e decisive su la gestione dei cartellini e dei falli di Di Bello. Perché ieri Di Bello, per esempio, sul fallo su Leao, fischia prima il vantaggio. Poi sente le proteste di Leao, fischia il fallo. E poi, perché sente le parole di Leao, dà il giallo a Leao. Cioè, quindi, è tutta una roba di condizionamento dalle proteste dei giocatori del Milan. Cioè, questo vi fa capire come, innanzitutto, sia chiaramente una classe arbitrale che è veramente indegna, scarsissima. Ma come le proteste di una certa squadra siano importanti per un certo ordine degli arbitri. E questi parlano di Marotta League, quando il vero scandalo è quello per non far vincere lo scoletto all'Inter. Ma ieri non c'entrava un cazzo, perché ieri era la Coppa Italia che c'entrava un cazzo ieri. Però questi parlano anche ieri di Marotta League. Ma di che cazzo stiamo parlando? Questi qui sono ossessionati, cioè, sono da studiare questi. Questi qui, dieci anni fa, cioè, questi vent'anni fa, alzavano le Champions. Cioè, come li abbiamo ridotti, questi qua? Cioè, questi vent'anni fa, ripeto, alzavano le Champions e ci andavano a sfottere in giro. Guardate come li abbiamo ridotti. A parlare di Marotta League dopo che si prendono le palle in testa dall'Atalanta, che ha dominato ieri Copp Miners, il giocatore totale. Ederson ha 56 polmoni, soprattutto nel secondo tempo, che ha migliorato di volta in volta. Holm, una prestazione sontuosa, ha fermato Leao 5-6 volte, che poi inciampa sulla palla in aria e mette i tweet, incredibile, scandalo, che mette le foto del rigore inesistente per loro merde. No, mette la foto, incredibile, vergognoso. Ma pensa a giocare, va, minchia, che non ti reggi in piedi, scivoli sulla palla. 5 gol da inizio anno, il giocatore più pompato del calcio europeo, veramente una roba vergognosa e parla. E parla, ma di che? Che fatemi sempre detto io? Questo ho sempre detto che secondo me al Milan, se dovesse arrivare un'offerta vera, perché non lo vuole nessuno e facciamoci anche due domande perché non lo vuole nessuno. Se arrivassero delle offerte, io, gliel'ho sempre detto, secondo me, arrivano 100 milioni, ma sono oro colato, ma da vendere subito, subito. Come con Tonali, subito. Poi anche lì su Tonali poi indagheranno perché anche lì su Tonali sono stati fatti assolutamente degli incalzi, delle cose illegali sicuramente perché, voglio dire, Milan sapeva che Tonali scommetteva, Newcastle l'ha preso, e infatti a Londra, cioè lì in Inghilterra sono incazzati neri con lui in Milan. Quindi occhio perché ci potrebbe essere anche un processo nei prossimi anni, chi lo sa, un caso. Perché la loro storia, anche loro, come i Gobbi, è fatta piena di illeciti. A differenza nostra, invece, poi, quindi, a prescindere dal furto del Milan di ieri sera, Pioli, il grande Pioli, no? Che è proprio veramente... Pioli incarna il classico milanista perché è ignorante, senza neuroni. Parla a caso, guarda solo gli episodi che fanno piacere a loro. Proprio, Pioli è il classico, è la reincarnazione, la figura del milanista proprio rincoglionito ritardato. Proprio il classico milanista perché piange sul rigore del 2-1, che quello lì, secondo me, era netto perché, ripeto, sbarra la strada a Miranchuk, no? E poi, su Canale 5, Mauro prova a chiedergli, prova a dirgli, ma guardi che c'era pure un rigore netto, scandaloso, che creda vendetta per l'Atalanta nel primo tempo. Cosa gli risponde Pioli? No, a me non sembra, non c'era. Cioè, ma che ci rendiamo conto? Come cazzo si fa a dire che non c'era quel rigore lì? Voi ditemi voi... Cioè, oggi se voi chiamate, che ne so, un Ultras della Sud, a caso, vi dirà che qual'era il rigore per l'Atalanta. Perché non si può dire... Cioè, solo se sei in malafede palese puoi dire una roba del genere. Cioè, un allenatore come cazzo fai a dire una cosa del genere? Come fai a dire una cosa del genere? È la reincarnazione del milanista sfigato, rincoglionito, ritardato, ignorante, con due neuroni. Perché Pioli rappresenta quella categoria di milanisti lì. Perché trovare gli episodi solo che fanno comodo a lui è una vergogna. Come invece Furlani. Furlani a fine partita è quello che esultava Marossi sulla vetrata con il gol di mano di Pulisic, no? Infatti poi da quel gol lì non hanno più vinto mezza partita in trasferta. Perché c'è da dirlo? Dove dice, partita decisa da episodi a nostro sfavore. Cioè, dopo che ti mettono le palle in testa per 90 minuti che l'Atalanta ha dominato, ma veramente ha dominato, sul piano dell'intensità, delle occasioni, della pericolosità, della concretezza, su tutto. Furlani dice che, no, partita decisa dalla... In poche parole fa la drata dell'Atalanta. Perché ha detto, partita decisa dall'arbitraggio. Cioè, rendetevi conto come questi stanno cercando di mistificare la realtà, dove c'è un rigore per l'Atalanta che doveva giocare contro un Milan sotto di un uomo e sotto di un gol, a fare queste dichiarazioni per giustificare un fallimento letale del Milan che ha chiuso la stagione al 10 di gennaio, dicendo che è stato un furto, che il Milan è derubato, così, no? Per far passare in cavalleria tutti i veri problemi che ha il Milan, che sono letali. Una squadra finita, fallita da anni, da top Berlusconi il Milan non esiste più. Il mio ragionamento che ho sempre fatto, il Milan, non è più da considerare. Dopo Berlusconi il Milan non esiste più. Non esiste più, punto. Punto, c'è poco da fare. Quella poca rimanenza di società gloriosa, di anni europeo, non esiste più, è rimasto zero. Perché fate ridere ai coglioni, fate. Fate ridere al cazzo. Siete la tifoseria che ha i livelli ridicoli, quasi come i romanisti, i napoletani. Siete dei provinciali ormai da dieci anni a questa parte. Cioè, questi che piangono e inneggiano la Marotta League pure dopo ieri sera. Che cazzo c'entra Marotta? Cioè, robe allucinanti. Poi, erano loro, l'Inter vince la Coppa Italia due anni di fila. E vabbè, ma la coppetta, del cazzo. Usciamo con il Bologna. No, ma quest'anno la Coppa Italia ha un certo... Ho letto tweet tipo, eh no, quest'anno la Coppa Italia ha una certa... Come dire, ha un certo blasone. È una coppa più importante. Veramente da anni che la Coppa Italia è più... Sui danni. Infatti, l'anno sui dicevi che era una Coppa di merda. Quest'anno invece, magicamente, è la Coppa... È la Champions quest'anno. Poi escono loro, ah no, ma... Meno male che ci siamo tolti sta coppetta, del cazzo. Cioè, ma ci rendiamo con... Questi sono da studiare. Cioè, questi qua sono da rinchiudere nei manicomi. Cioè, li abbiamo ridotti veramente da rinchiudere nei manicomi, cazzo. Eh, ma le 5 pene hanno fatto male, eh. Veramente, oh. Incredibile, oh. Il gol di Turam nel set è veramente... Tanta gente ce l'ha ancora in mezzo alle mutande. Comunque, comunque... È così. Quindi... Poi io volevo parlare un attimo, intanto, Popovic. Quello lì che... Poi bisogna parlare poi di una cosa importante. Perché loro hanno rotto il cazzo tutta l'estate su Samaric. Che l'affare non si è fatto. Chiaramente per le commissioni. Perché il padre, al momento della firma, ha chiesto altre commissioni. Ha chiesto aumento dell'ingaggio non preventivato prima. Noi, giustamente, Marotta e Zhang, giustamente hanno messo fine alla trattativa. Io l'avevo detto che la colpa è stata palesemente del padre di Samaric. Quest'estate ho lottato contro i Tristoni, no? Che invece dicevano che era Zhang, che non aveva un euro, che non ha forzato lui la trattativa perché è morto di fame. Tutte le varie cagate che dicono i Tristoni che combatterò sempre, chiaramente, no? E poi i milanisti che ci hanno sfottuto, che loro invece hanno fatto un mercato faraonico. Sì, infatti si sono visti i risultati. Che dicevano che... Ah, fallite, non riuscite più a prendere manco quello di qua di là. Ma noi almeno l'abbiamo fatto con un giocatore che avrebbe rinforzato la nostra mediana. Un giocatore forte come Samaric, no? Ma invece parlano loro che ieri è arrivata la notizia che è saltato Popovic. Uno che molto probabilmente non lo conosce manco la madre. Praticamente il padre una volta ha acceso la tele, chiama la moglie e fa Guarda che qua c'è uno che assomiglia a nostro figlio. Perché questo chi cazzo è lo Popovic? Chi cazzo è questo qua? Popovic, no? Dove è saltato l'affare per delle commissioni fuori logica, delle commissioni troppo alte. Quindi praticamente la stessa situazione di Samaric. Che tra l'altro non firmerà neanche col Napoli, sempre per colpa del padre. E avrebbe forse l'accordo con la Juve. Io direi che la Juve forse è proprio la squadra che fa per lui e per suo padre di merda praticamente. Perché alla fine la Juve forse è la squadra proprio apposta che fa per lui. La squadra dei disonesti. Quindi proprio come si sono comportati loro sia col Napoli che con l'Inter, no? E invece, quindi questo era per rispondere. In primis i tristoni che, quindi con la mancata firma con il Napoli, hanno totalmente perso una battaglia. Che diceva che invece era colpa di Zang. Sì, sì, infatti. Infatti, quindi già smerdati. Hanno perso la battaglia. E poi i fenomeni qua che parlano di Samaric. Dice, sì, infatti questi noi almeno dovevamo prendere Samaric. Cioè, vuoi questo qua, Popovic? Ma chi cazzo è? Quindi, quindi Milan beffato e Milan beffato anche per Dragosin che ha scelto di andare al Tottenham. E questa cosa qua va detta perché nessuno ne parla. Milan beffato anche perché Dragosin sceglie il Tottenham e non il Milan. Cazzo. Perché se succedeva a noi invece, ah, l'Inter beffata come per Scamacca, come per quello, come per quell'altro. Sì, destra e sinistra, avanti e indietro. Ora, parliamo della... Torniamo a noi. Riavvolgiamo il nastro. Allora, chiaramente adesso ci aspetta la gara importantissima col Monza. Poi la Supercoppa. La Supercoppa che quest'anno, ripeto, conta ben 8 milioni. Ripeto, io sono sempre stato coerente. Secondo me, Supercoppa e Coppa Italia sono coppe che hanno la loro importanza. Non decisive, ma neanche coppette del cazzo, come le chiamano gli scappati di casa. E sono sempre stato coerente, sia quando eravamo dentro e quando siamo usciti. La Coppa Italia, tuttora, è una coppa che ha la sua importanza. Che ha la sua importanza. Come la Supercoppa. Perché comunque le giochiamo da detentori. Quindi è importante fare bene importante e riconfermarsi. In Supercoppa, quindi, giocheremo con la Lazio la prima partita. Gli altri anni valeva 3 milioni, quest'anno vale 8. Quindi, ora, visto che abbiamo un problema punta. Problema punta. Più che altro, io non lo chiamerei neanche problema punta. Chiamerei problema Sanchez. Perché in questo momento se c'è una grana, la grana è Sanchez. Quindi, 8 milioni di Supercoppa. Poi, ci sarebbe l'interessamento da parte dell'Istar per Sensi. Un interessamento che all'inizio ha destato forti, come dire, forti fermezze da parte di Sensi. Che sapete che non voleva assolutamente neanche prendere l'idea di poter lasciare l'Inter. Invece, nelle ultime ore, notizie che avevo già avuto ieri sera, a quanto pare Sensi si è sentito corteggiato. È rimasto molto contento e lusingato dall'interessamento di Maresca, allenatore dell'Eister. Grandissimo fantasista del nostro campionato, ce lo ricordiamo. Un campion, un fenomeno, davvero doti balistiche allucinanti. E quindi, Sensi è rimasto molto contento, quasi fino ad arrivare a dare l'ok per il trasferimento. L'Inter vorrebbe incassare almeno 2 milioni. Prezzo che a me fa male al cuore sentirlo, però purtroppo ci vanno di mezzo anche gli infortuni che ha sempre avuto. Liberarsi comunque di Agumet e Sensi a centrocampo. Con Agumet già ufficializzato il passaggio al Siviglia. Secondo me è una grande operazione dell'Inter in uscita. E questo permetterebbe quindi, con la cessione di Sensi, altri 2 milioni, un bel gruzzoletto per andare sulla punta. Io non sono dell'idea, facciamo uscire Sanchez, prendiamo... L'idea, secondo me, è rimanere così e prendere il quinto attaccante. Poi, Sanchez, siamo lì. Sanchez non andrà mai in Arabia. Ma non ci andrà mai. Perché è in un Inter che lotta per lo scudetto, già gli ottavi di Champions e già il Mondiale per Club. È troppo importante l'ultima stagione di Sanchez in Europa che lo vedrà magari campione di qualcosa. Sempre facendo le corna al diavolo, chiaramente. Quindi, cioè, capite che io ripeto l'unica grana che abbiamo è Sanchez. Che, come ho sempre sostenuto anche quest'estate, per me non andava preso. Ma non andava preso. E l'unico acquisto che non ho capito è quello di Sanchez. Perché è un giocatore che non aspettava altro che l'offerta dell'Inter. Perché dopo che ha fatto 15 gol con Marsiglia in un campionato come la Ligue 1, che pure Arnautovic, se lo metti, ti farebbe 40 gol. Perché ha delle linee difensive che fanno ridere i polli. Con le condizioni fisiche che ha. Cioè, non faceva la differenza, veramente, neanche con tre anni in meno, il primo anno di Inzaghi, perché con Conte ha fatto, secondo me, due buone stagioni. Ha fatto, beh, soprattutto meglio la seconda che la prima. Perché, comunque, l'anno dello scudetto di Conte-Sanchez è stato molto importante. Perché doppietta col Parma, gol col G, cioè, ha fatto gol pesanti. Cioè, questo gli va riconosciuto perché quando è entrato Sanchez ha sempre cambiato le partite l'anno dello scudetto. Da lì in poi è finito, sì, va bene, ha fatto il gol con la Juve in Supercopa, va bene, grazie. Ma io non l'avrei ripreso anche per una questione personale. Perché oltre che non faceva la differenza due anni fa, quando se n'è andato, lui e il suo compagno indegno di Vidal, che si permette pure di parlare, no? Si permette pure di parlare. Sono andati via, ciucciando la buona uscita. Quindi pagati sia per arrivare che per andare via. E l'ultima partita con la Samp, quando abbiamo perso lo scudetto, non si sono neanche degnati di andare a salutare i tifosi sotto la curva. Sti pezzi, sti grandissimi indegni ingrati del cazzo. Perché 7 milioni, ingaggi del genere, solo l'Inter poteva darveli. Per due giocatori finiti. Quindi, adesso è tempo che avete rotto il cazzo. Sia Sanchez che quel fenomeno di Vidal che parla addirittura Ah, Sanchez se ne deve andare. Sanchez mi devi ascoltare, vai via dall'Inter. Eh, magari ti ascoltasse. Magari ti ascoltasse. Così magari ci fai pure prendere qualche soldio. Cioè, ma capite com'è la situazione qua? Cioè, uno alcolizzato che fa merenda con la tenna, insieme alla broscia, al cioccolato, parla di Sanchez che deve andare via dallì. Ma sì, ma magari. Ma magari. Ma speriamo che ti ascolti. Cioè. E poi dice, gioca Mkhitaryan e non Sanchez. Ma ci mancherebbe altro. Stiamo scherzando. Cioè, i dieci anni di carriera di Mkhitaryan valgono quattro o cinque volte i tre anni buoni di Sanchez all'Arsenal. O quell'anno buono magari con l'Udinese. Ma di cosa parliamo? Poi che Sanchez sia un giocatore che ha delle doti tecniche favolose, lo sappiamo, chiaramente. Ma a noi serve un giocatore che entra e che dia freschezza alla manovra. Non ci servono gli uomini d'area. Sanchez come profilo è quello che ci serve, ma non te lo può garantire. Perché cammina. Perché apposta aspettava l'offerta dell'Inter per svernare un anno a quattro... Quanto ha firmato? 3-4 milioni, ma forse anche di più, non lo so. Per stare qua a svernarsi un anno all'Inter. Punto. Punto. Questa è la verità. Io non l'avrei preso in primis per i principi di campo, perché non è quello che ci serviva. In secondis per i fattori extracampo. Quindi, ripeto, poi si parla dei nomi Simeone. Vabbè, Tremi per giugno. Simeone. Ho sentito... Come si chiama? Ho sentito... Tanti nomi. È uscito il nome di Simeone. Che io assolutamente non prenderei, perché non è... Beh, innanzitutto non è quello che ci serve poi Simeone, ragazzi. Se Simeone è uno da Inter, per piacere dai. Per piacere Simeone, adesso. Lasciamo i seri. Cioè, Simeone... Quanti cosa ha fatto? Un gol quest'anno col Napoli? Non è... Che poi ho sentito anche che con l'arrivo di Biukanan, Inzaghi potrebbe fare il 3-4-3 con Biukanan esterno d'attacco. Ma per piacere. Oppure mettere Mkhitaryan o Frattesi sottopunta. No, sarebbe un attaccante, ragazzi. Pagliamoci chiaro. Sarebbe una... Poi sono sicuramente alternative che se poi il mister magari le prova. Poi noi ci fidiamo di Inzaghi e sicuramente... Però serve un attaccante. Un quinto attaccante secondo me serve. Ripeto, freschezza, dribbling, qualità, supervolità numerica. Il giocatore perfetto da prendere è Valentin Carboni. Il giocatore che io... Voi mi conoscete, io farei carte fase per riprendermelo. Perché è veramente un diamante grezzo, un giocatore sopraffino. Poi certo, la cosa che ripeto sempre è che per migliorare ha bisogno di giocare. Ha bisogno di vedere il campo. Con il Monza si sta prendendo praticamente il posto da titolare con Colpani. Quindi sarà dura strappaglielo. Però ho visto che il Monza ha preso Daniel Maldini. Non lo so. Sarà un segnale? Non lo so. Però è normale che comunque i contatti e i rapporti tra Marotta e Galliani sono di amici fraterni. È normale che diventa poi dura andargli a riprendere Carboni dopo che sta facendo così bene. Quindi non lo so. Sarebbe quasi da infami ecco. Però ripeto, il giocatore è di proprietà nostra. Possiamo fare il cazzo che vogliamo. Io lo riprenderei proprio senza pensarci due volte. Perché è quello che ti serve. E poi soprattutto per riportare Carboni metteresti una grande pressione a Sanchez. Perché a questo punto hanno preso un altro, hanno preso un ragazzino. Vuol dire che sarebbe in primis per avere una buona alternativa. Una ottima alternativa da far crescere, da far allenare. Perché Carboni veramente sarà un crack dei futuri almeno 10-15 prossimi campionati italiani. Perché sarebbe veramente Carboni a quel mancino veramente. Da quella spinta, personalità, va nello stretto, ha il tiro. Infatti non a caso ho convocato da Scaloni in Nazionale A a 17 anni. L'anno scorso l'ha convocato Scaloni. Quindi non a caso ti convocano a 17 anni in Nazionale A. Soprattutto una come quella della selezione campione del mondo. Non lo Zimbabwe. E quindi io farei carte false per riprendere Carboni. Poi c'è anche il nome di Ingonge. Ma anche Ingonge non mi dispiacerebbe. Però Ingonge lo devo andare a pagare quanto? 10 milioni, 8 milioni. Ma avere un Carboni così in casa? Capito, no? Cioè io veramente farei carte false. Per riportare Carboni a Milano. Perché ti dà una mano, ti dà una grossa mano. Soprattutto negli ultimi minuti quando serve più brillantezza. Serve un giocatore frizzante che sbarigli le linee difensive. Uno che dà un po' di imprevedibilità con la tecnica. Un mancino pauroso. E soprattutto volevo anche rispondere a un articolo vergognoso della Gazzetta. Non so chi l'abbia scritto ma ho il presentimento. Ho scritto il personaggio. Carboni, un sinistro che canta. E fino a qua tutto a posto. Così cresce a Monza. L'ildiz dell'Inter. Prego. L'ildiz dell'Inter. Ma Ildiz chi cazzo è? Perché adesso ci siamo rotti le palle qua. Ildiz è la classica, la classica invenzione, la classica pompata della stampa gobba. Perché che Ildiz magari sia forte, questo nessuno lo sta mettendo in dubbio. Ma è il classico pompaggio dei gobbi. Fanno un gol e sono narrati su tutto sporco. Come i nuovi fenomeni. Come quello lì, Azic. Quello lì che vogliono prendere. Cioè lo stanno dipingendo come se fosse... Ho visto un po' di... Di... Cioè, di quelle cose. Un po' di Ibrahimovic. La cattiveria di quello. La freddezza di quell'altro. Come quando arrivò a Zaccaria. Un misto tra Zidane e Platini, dicevano. Ma ci rendiamo conto? L'ildiz dell'Inter. Ma Ildiz chi cazzo è? Con tutto il rispetto. Cioè veramente, ma con tutto il rispetto. Ma Ildiz chi cazzo è? Cioè, ma se paragoniamo la qualità di... La tecnica di Carboni è quella di Ildiz. Ma vince 10 a 0 Valentino. 10 a 0 vince Valentino. Ma Ildiz, ripeto. Ma chi cazzo è? Ma non per sminuire Ildiz. Che non me ne frega niente. Ma... Cioè, Carboni come se fosse un sotto Ildiz. Carboni. Ma chi cazzo è? Cioè, ma chi cazzo è Ildiz? Cioè, che Carboni sta facendo la differenza a Monza? Ha fatto vincere partite importanti al Monza. E ha segnato anche ai Gobbi all'Upower Stadium. Stadio che ci aspetterà, chiaramente, sabato sera. Quindi, questa è la mia visione sul mercato. Secondo me è importante non fare Sanchez. Tanto Sanchez non se ne andrà mai e non è impossibile da smuovere. L'importante, secondo me, è far tornare Carboni. Io faré tornare tutta la vita Carboni. Tutta, tutta, tutta la vita Carboni. È l'unico giocatore che veramente è quello che ci serve. E poi in Gongi io non lo butterei via sicuramente. Però dalle voci che girano, Simeone questi qua, ragazzi. Simeone sarebbe un colpo, sarebbe un acquisto alla Caicedo l'anno di, il primo anno di Inzaghi. Cioè, né caldo né freddo. Poi non sono i giocatori che ci servono. A noi serve, servono gli uomini, non gli uomini d'Italia. Servono quelli che creano superiorità, che vanno in velocità, nello stretto, che fanno dribbling. Serve Valentino Carboni. E in più non andresti neanche a pagare. Quindi, amola sempre. Sempre a Forza Inter. Un bacione a tutti, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, like su YouTube, iscrizione al canale, like su Instagram, tutto quanto. Video molto lungo. Ci vediamo nel video di domani, vigilia di Monza Inter. Forza, ragazzi. Forza, Inter. Difendiamoci a scudo da tutte le critiche vergognose, tutti i depistaggi e tutte le narrazioni inventate ad hoc per destabilizzarci. Sempre Forza Inter.